In questi giorni nella mappa di Fortnite sta succedendo qualcosa di veramente strano e particolare ma soprattutto di molto spaventoso I cubi stanno iniziando a creare dei mini cubi e si stanno espandendo sempre di più aumentando di numero e soprattutto avvicinandosi sempre al centro della mappa E il cubo oro nel mentre va ad assorbire l'energia dai cubi viola Questo mi fa pensare solo a una cosa, la fine del mondo, la fine di Fortnite e io sono molto preoccupato Oggi insieme ragazzi andremo a cercare di fare chiarezza su quanto sta succedendo, andremo a vedere tutti i cubi che si stanno moltiplicando Dove è finito il nostro cubo oro e vedremo se nel gioco c'è qualche modo per poterli fermare De tutto questo noi ci prendiamo sul pullman della battaglia Ed eccoci qua signori, ci siamo buttati finalmente dal bus della battaglia e stiamo arrivando subito al primo spot Al primo posto dove i cubi si sono già replicati e io oggi sono qua anche per portarvi un paio di dicerie E un paio di diciamo idee sul perché i cubi si stiano moltiplicando e dopo cosa si stiano moltiplicando Ragazzi adesso ve ne parlo benissimo mi raccomando guardatevi il video fino alla fine perché ci saranno delle belle Soprattutto se il video vi piace lasciate un bel like, iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi tutti gli altri video Intanto ragazzi eccoci arrivati, questi sono i nostri cubi viola E come vedete qua questo cubo viola che prima era da solo ora è magicamente diventato padre o madre di tutti questi altri cubi signori Incredibile questa cosa è davvero pazzesca Ok abbiamo fatto un attimo questo ragazzino che forse voleva importunarci ma non aveva capito con chi aveva a che fare scusatemi Comunque stavo dicendo ragazzi infatti potrebbe essere tranquillamente il padre di questi cubi Ma oh mio dio ragazzi guardate cioè è una scena abbastanza spaventosa Non so se anche voi concorderete il fatto che da 3 cubi sulla mappa adesso già solo qua ce ne siano tipo 5 o 6 E quindi tra 40 giorni quando si sbloccherà la skin segreta che cosa succederà? È sulla mappa di Fortnite quando tutti i cubi perché non so se sapete ma tutti i cubi convergeranno all'interno Ovvero al centro della mappa dove una volta tra l'altro c'era il nostro punto 0 E infatti anche qua punto 0 sicuramente noi speriamo in un cambio mappa sicuro in fine season Comunque non è quello di cui vogliamo parlare oggi perché io oggi sono qua appunto per farvi vedere Il fatto che i cubi si sono moltiplicati si stanno continuamente moltiplicando ma si stanno anche continuamente muovendo Si muovono all'incirca un 3-4 volte al giorno è anche almeno ieri mi sembra 3 o 4 volte Ma una cosa molto interessante una teoria molto particolare che si poteva trovare su Twitter Ovviamente non è per vie ufficiali ma è qualcosa del genere è la seguente Ma prima di spiegarvela devo fare una piccola introduzione una piccola premessa Non so se sapete ma il cubuoro come vi ho detto nella intro sta diciamo tra piccolette assorbendo dell'energia dai cubi viola E la mia domanda è ma se non stesse assorbendo energia ma le stesse passando o almeno se si stessero riproducendo proprio in quella maniera Ragazzi intanto questo qua lo facciamo un attimo in questa maniera Vabbè pazzesco 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 Lo facciamo in questa maniera Ragazzuoli però vi ricordo che se volete supportarmi al massimo potete inserire nello shop il codice creatore refiz con 2 e con 2z per supportarmi al massimo Intanto vi faccio anche vedere che sono uscite le skin di Fortnite per Balenciaga Tantissima roba io personalmente le ho adorate ho preso tutto il set Quindi mi raccomando se anche ve lo farete il codice creatore refiz con 2z nello shop mi raccomando Ed eccoci qua ragazzi siamo riscesi dal pullman la seconda volta in un video fantastico per andare avanti a parlare Allora vi stavo dicendo prima di morire prima di provare a pushare quell'uomo che appunto potrebbero starsi accoppiando Ecco cosa intendo questo non so se avete notato ma l'unico cubo ad aver fatto tra virgolette questi mini cubi È il cubo con cui il cubo oro ha avuto a contatto no col quale sembrava si stessero passando l'energia Ed è qua che io vi voglio appunto Secondo me loro non si stanno passando l'energia ragazzi ma si stanno appunto tra virgolette riproducendo Perché per conquistare la mappa di Fortnite non potevano essere così pochi E ora invece che sono già molti di più sicuramente potranno fare del gran danno E comunque io vi ricordo che i cubi non sono ancora secondo me attivi perché ancora ad esempio non fanno danno Se noi ci avviciniamo ad essi quindi sicuramente ci sarà un altro sviluppo anche da parte dei cubi Perché appunto vedete se io adesso ci salto sopra non prendo danno Cosa che invece con il nostro vecchio cubo Kevin ricordiamo che succedeva Quindi sicuramente appunto sono ancora tra virgolette spenti E ora vi voglio portare a questa riflessione ovviamente voi vedete appunto che qua ci sono questi cubi Bene non so se avete notato ma questo è l'unico punto L'unico cubo con il quale appunto il cubo oro ha avuto a che fare Con il quale il cubo oro si è toccato E questo diciamo che un po' potrebbe andare a dare fondo alla teoria appunto che il cubo oro in realtà sia la madre Cioè la nostra skin segreta effettivamente potrebbe essere tranquillamente il cubo oro Invece che immaginarla come un cubo viola L'immaginiamola come il cubo oro Ecco lei è la madre che va a diciamo a creare nuova prole ecco Per poi arrivare al centro della mappa durante l'evento finale probabilmente Oppure al quarantesimo giorno E creare qualcosa di veramente devastante Intanto io sono scioccato dal fatto che io abbia trovato il lancia granate Cioè non vedevo quest'arma da 60 anni Questa è una cosa sicura E quindi ragazzi io sono molto scioccato E ora vediamo un po' come potremmo fermare questo cubo Questo diciamo questo conquista da parte dei cubi della mappa Beh io vi dico una cosa Nel trailer di questa season abbiamo visto che il nostro uomo che aveva salvato la mappa appunto dal punto zero Si era diciamo risvegliato in fondo all'oceano Beh lui sicuramente avrà un ruolo molto importante Ma anche diciamo come si chiama Dio Quello dove arrivava la gente Jonesy Sicuramente potrebbero tutti quanti rientrare un po' in opera Ma attenzione perché io ho una speranza veramente veramente interessante Io ho la speranza che questa volta E io adesso ve lo dico un po' a bassa voce ragazzi Perché non voglio che poi ci sentano troppo Però adesso ve lo dico a bassa voce ragazzi Io spero veramente che dopo questo evento ci sia un cambio mappa con la mappa della vecchia season Esattamente ragazzi Beh perché i cubi sappiamo che hanno un potere un po' particolare eh Comunque io sono molto curioso di vedere come andrà avanti il tutto Io spero anche di avervi fatto vedere un po' di diciamo tra virgolette scene Dove appunto si vedevano i cubi perché è molto interessante vedere i cubi all'opera Secondo me perché non li vedete ovunque Questa è una cosa sicura ne sono certo che non li vedrete ovunque Intanto però adesso prima di concludere il video voglio andare un attimo a pushare Perché ho ancora un paio di robine da dirvi Ma ovviamente non voglio nemmeno terminare il video così Cioè non voglio terminare il video senza mezza kill E questa mossa non è servita assolutamente a nulla raga A nulla ma ok Che poi raga cioè veramente sicuramente E adesso voglio farvi vedere ma adesso il cubo oro se non sbaglio è qua Andiamo dal cubo oro deciso Voglio proprio andare dal cubo oro Tanto la gente poi stava anche lì e niente Però vedete ci sono tante belle ipotesi eh per questa season Potrebbe esserci veramente tanta roba E sono molto curioso Però adesso appunto voglio andare a cercare il cubo oro Eccoci qua eccoci qua eccoci qua L'abbiamo trovato finalmente Allora cubo oro Perché poi se non so se vi ricordate ma durante l'evento il cubo oro Sembrava proprio il king di tutti capito Cioè era proprio in mezzo a tutti i cubi viola E poi guardate quanto è forte Oh mio dio raga 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 Il cubo oro è diventato devastante raga Ragazzi il cubo oro è diventato fortissimo Cioè prima non ti faceva saltare così in alto ragazzi E ve lo giuro È in altissimo raga È veramente troppo in alto Prima era Aveva la forza di un cubo viola Io adesso ho in mente Ma cavolo Ma quando arriverà anche al prossimo cubo viola Che vi faccio vedere che non è lontanissimo Cosa diamine succederà Cosa diamine succederà ragazzi Cioè dove andremo a finire Saltandoci sopra Dove ci butterà Oh mio dio Raga eh cioè Guardate che effettivamente Il nostro cubo oro è lì Contando che ogni volta che si muove farà un circa un 30 metri suppongo Perché penso di sì Noi adesso siamo a ce Aspetta un attimo facciamo una roba del genere Così È tutto più veloce Eccoci qua Il prossimo cubo viola Eccolo qua Non ci sono mai stato tra l'altro come mi sa eh Il prossimo cubo viola ragazzi è questo qui In questa posizione che È solo a 300 metri Quindi secondo me è Qualche giorno E arriveremo sicuramente All'incontro Col prossimo cubo Che sicuramente sarà devastante Per il cubo oro Diventerà devastante E vi faccio vedere la differenza Raga Di potere Guardate Cioè vedete È un saltino del cacchio questo Avete capito Prima era così anche il cubo oro Detto questo signori Il video di oggi Può terminare qua Io vi ringrazio per la visione Secondo se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi Andate nella campagna Ci vediamo domani E stasera in live Con un nuovissimo video Bella ragazzuoli